Siamo a Clusone, nell'ex Palazzo Carrara Spinelli, dove ora c'è la filiale clusonese della Banca Popolare. Qui c'è una lapide molto particolare che tra l'altro ci svela anche alcuni e retroscena di una famosa persona di cui abbiamo già parlato. Sicuramente è una lapide che è sempre rimasta nascosta, è stata fatta per essere esposta probabilmente sulla facciata del Palazzo, ma non è mai stata esposta e poi è rimasta in una delle sale del Palazzo Carrara Spinelli. I riferimenti sono a Clara Maffei, la nostra eroina di risorgimento, e al padre Giovanni Mattista Carrara Spinelli. La lapide ricorda la visita a Clusone della Ciduc Ranieri, niente meno che il vicerè del Lombardo Veneto. Viene a Clusone e viene accolto nel Palazzo Carrara Spinelli dal padre di Clarina e la lapide dice a Ranieri, figlio di Leopoldo Augusto, fratello di Francesco, vicerè del Lombardo Veneto, Giovanni Battista Carrara Spinelli, Conte. L'anno 1835, nel felicissimo giorno, 14 settembre, affidato alla memoria dei posteri, nel quale, con la partecipazione di tutta Clusone, il principe indulgentissimo entrò nella casa degli Spinelli e con la sua presenza e la parola la nobilitò. Siamo nel 1835. Clara Carrara Spinelli, Contessa, posata a Maffei, nel 1835 ha 21 anni e sta aprendo a Milano, dopo la morte della figlia, il suo famoso salotto. Il padre, invece, che è reazionario e austriacante, accoglie nella sua dimora il principe Ranieri. La ciruca Ranieri, tra l'altro, ecco i legami di famiglia, è estremamente legato ai Savoia. Infatti, lui sposa Maria Elisabetta di Savoia Carignano, che era la sorella di Carlo Alberto. Verrà cacciato la ciruca Ranieri proprio con le giornate di Milano nel 1848. Non solo, ma la sua figlia, la figlia Adelaide, quindi Adelaide e Asburgo, sposerà niente meno che Vittorio Emanuele II, che diventerà re d'Italia. Allora, ha Ranieri, figlio di Leopoldo, Leopoldo Asburgo di Lorena, e fratello di Francesco, padre di Ferdinando Augusto, la Gobardos Venetosco e vice sacro moderanti, cioè vice re del Lombardo Veneto, Giovanni Battista Carrara Spinelli, Conte, l'anno 1835, nel giorno letissimo del 18esimo delle calendari di ottobre, praticamente il 14 settembre, secondo il calendario romano, lascia la memoria dei posteri, quel giorno nel quale tutta Clusone partecipa e il principe, indulgentissimo, entra volentieri, ingressus libens, nell'antica dimora degli Spinelli, Spinelliana Domum, e con la sua presenza, la sua dignità e la sua parola nobilita questa dimora.